Ciao a tutti ragazzi e bentornati su 3Adventure. Nel video di oggi vedremo come smontare e rimontare un giunto da un semiasse del nostro fuoristrada. I giunti che utilizzerò sono della Terry & Tamer, un'azienda con la quale ho iniziato a collaborare. Terry & Tamer è un'azienda australiana nata circa negli anni 60 ed è leader nel settore delle parti di ricambio. Infatti fa parti di ricambio per Land Rover, Toyota, Nissan, insomma un po' per tutti fuoristrada. Io ho già avuto modo di provare i loro prodotti e devo dire che sono veramente di ottima qualità. Infatti quando sostituì tutti i cuscinetti del mozzo anteriore utilizzai proprio quelli della Terry & Tamer. Ovviamente se siete intenzionati a provare i loro prodotti li trovate sia sul loro sito oppure dal loro rivenditore autorizzato qua in Italia. Tengo a specificare che questo video è un estratto di un altro video che ho fatto e che trovate qua nel canale dove oltre a separare il giunto dal semiasse faccio vedere proprio come togliere il giunto dalla macchina. Quindi se siete intenzionati a vederlo lo trovate qua sopra oppure sotto in descrizione. Ma come ci si accorge quando un giunto è da cambiare? Beh ragazzi molto semplicemente bloccando il differenziale centrale e sterzando tutto a destra o tutto a sinistra se il giunto è usurato si sente un rumore tipo toc 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 provenire proprio dalla ruota. In tal caso il giunto è meglio cambiarlo il prima possibile. Bene adesso non perdiamo altro tempo iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e iniziamo! Ora viene la parte divertente ovvero togliere il giunto dal semiasse. Vediamo come fare. Ora per togliere il giunto dal semiasse ci sono due metodi. Il primo lascia il giunto intatto ed è quello che vorrei utilizzare in questo caso. Il secondo invece ci porta a spaccare il giunto. Adesso proverò prima nel primo caso e poi vi farò vedere il secondo caso. Infatti dall'altro lato purtroppo ho dovuto spaccare del tutto il giunto. Nel primo metodo ragazzi per togliere il giunto dal semiasse serve un tubo come questo. Poi semplicemente ci inseriamo il semiasse dentro e diamo qualche colpo. Com'è che dovrebbe funzionare ragazzi in linea di principio questo metodo? Sul semiasse in cima c'è la sede per un seger tondo a molla. Sostanzialmente quando si inserisce il giunto sul semiasse poi lo vedrete il seger sta chiuso, arriva in posizione e il seger si apre. Dando questi colpi teoricamente la molla si dovrebbe chiudere, dovrebbe rientrare nella sua sede del semiasse e dovrebbe far scorrere il semiasse verso in basso rispetto al giunto per il peso stesso del semiasse. Ora a volte funziona a volte come è adesso e ieri no. Vediamo un po'. Niente ragazzi ci ho provato un bel po' e anche in questo caso il giunto non viene. Preferisco passare direttamente alla mola perché ieri ci ho veramente provato tantissimo con questo metodo e quello che è successo alla fine è che si è rovinata la sede del seger e quindi poi ho dovuto un pochino riprendere il tutto con la lima. Insomma è stato un po' noioso il lavoro di ieri. Quindi per evitare di fare gli errori di ieri preferisco procedere direttamente con la mola e tagliare. Ora vi faccio vedere come tagliare e dove tagliare in modo tale da non rovinare assolutamente niente. Comunque ragazzi prima di partire con la mola vi consiglio anche a voi di provare con questo metodo col tubo perché se funziona è l'ideale. Se non funziona invece si passa alle maniere forti. Ragazzi allora come vedete ho posizionato il tubo perrito, ci ho infilato dentro il semiasse ed esce fuori solamente il giunto. Ora vi faccio vedere i punti nei quali dovremo andare a fare i tagli con la mola. Una cosa alla quale dovete fare veramente stra attenzione è ovviamente non andare a intaccare con la mola il semiasse perché altrimenti oltre al giunto nuovo vi serve anche la mola. Però vi posso garantire che se avete un po' di attenzione questo rischio è praticamente zero. Vi faccio vedere dove fare i tagli. I tagli ragazzi vanno fatti sostanzialmente non so se riuscite a vederlo. Qua c'è una sfera e vanno fatti qua ai bordi della gabbietta in modo tale da liberare la sfera, far cadere la sfera e fare in modo che questa parte si sfili. In questo modo ragazzi una volta tolte tutte le sfere questa parte qua di sopra verrà via, resterà vuota e sul semiasse resterà solamente questa parte qua. Questa parte qua ragazzi poi si toglie facilmente perché a quel punto si riesce ad accedere al seger, si toglie il seger e questa si sfila. Ragazzi visto che ho il giunto nuovo a portata di mano vi faccio vedere per bene i punti dove tagliare per togliere le sfere. Vedete questa questa gabbia facendo un taglio qua ed uno qua la sfera cade e poi si sfila. Adesso che ho tolto l'ultima sfera questo viene via. Ora ragazzi vado a far merenda perché c'ho fame e poi si riparte. A dopo. Bene ora che mi sono pappato una bella schiacciatina con la mortadella posso riprendere. Ci tenevo a dirvi che se fate questo lavoro infilando il semiasse dentro un tubo come ho fatto io è praticamente impossibile che voi andate a rovinare il semiasse perché avete il tubo che lo protegge. Quindi magari si sciupate il tubo però meglio sciupare il tubo del semiasse siamo tutti d'accordo su questo. Per togliere il seger qua c'è un piccolo problema. Lo spazio che c'è fra questo che è il pezzo rimasto del giunto e il semiasse è troppo piccolo perché il seger ci passi. Quindi adesso quello che farò sarà molare delicatamente facendo molta attenzione a non rovinare il semiasse una parte qua di quello che rimane della parte del giunto questa parte qua superiore in modo tale da far sì che mi creo lo spazio per far uscire il seger. Se per caso con la mola si dovesse intaccare leggermente questa parte qua sopra del semiasse non preoccupatevi in quanto non è una parte strutturale del semiasse stesso. Diciamo la parte strutturale è tutto quello che c'è da qui in giù. Questa parte qui sopra sarebbe bene. Dovrebbe essere bene non toccarla con la mola ma se per caso ci si fa un sgraffiettino ecco non disperatevi non c'è da cambiare tutti i semiasse. A differenza invece se avessimo fatto uno sgraffiettino nella parte sottostante quello che resta del giunto. Quindi iniziamo. come vedete ragazzi ho fatto un lavoro molto di fino ed ho molato solo questa parte qua. L'unici punti dove ho intaccato qualcosa di vicino al semiasse è stato qua dove ho intaccato il seger che ovviamente precede il semiasse. Comunque andando delicatamente si riesce a fare abbastanza bene questo lavoro. Ok ragazzi adesso che ho finito di fare questo lavoro di fino con la mola posso finalmente togliere il seger. Ecco fatto seger tolto. Questa parte ragazzi adesso come vedete si muove in su in giù però non esce. Come mai? Beh il problema sono i colpi di prima perché esattamente come è successo ieri, ieri molto di più. Si è rovinata leggermente la parte qua sopra del mille riga, ha fatto una bavetta e questo batte nella bavetta. Adesso devo prendere una lima, limarlo leggermente proprio a levargli solamente la bavetta e poi il gioco è fatto. Bene ragazzi adesso dopo averci dato come avete visto una limatina lo rimetto nel tubo. Sotto ovviamente ci ho messo una tavoletta di legno in modo tale da non far prendere il corpo al semiasse per terra ma sul legno che attutisce. Poi nuovamente martello al rame, qualche colpetto. Ecco fatto. Tolto. Adesso devo pulire per bene il semiasse. Bene ragazzi adesso che ho pulito per bene il semiasse controllo che entri il pezzo. Come verrete il pezzo non entra più di così. Questo perché questo è successo, sempre colpo di prima, hanno fatto sì che si formi una bavetta non solo sul bordo, quella che ho tolto prima, ma anche dentro. Quindi adesso con una lima quadrata come questa, delicatamente facendo così vado a levare la bavetta che c'è fra le spine. È molto facile capire i punti nei quali c'è la bavetta perché appunto sentite proprio la lima che mangia, che aggrappa, mentre laddove la bavetta è minima oppure è subito stata tolta, la lima scorre sopra quasi senza mordere. Proviamo adesso. Ok, entro senza problemi, anche se lo ruoto. Entra bene. Quindi a posto. Bene ragazzi adesso è arrivato il momento di montare il nuovo giunto. Come vi ho già detto il nuovo giunto mi è stato fornito dall'azienda Terri & Tamer, che è un'azienda australiana leader nel settore delle parti di ricambio. Da pochi mesi ho iniziato una collaborazione con loro. Mi fa veramente molto piacere anche perché i loro pezzi sono veramente di ottima qualità. E una cosa molto importante e molto bella dei loro prodotti è che loro nei kit che vi spediscono a casa. Ve li spediscono con tutto il necessario. Infatti qua dentro ci sono già due tubetti di grasso, che è il grasso che serve per ingrassare il nuovo giunto. E' il suo grasso. Va utilizzato questo grasso. Quindi comprando dei prodotti della Terri & Tamer sempre sempre ragazzi avrete dei kit con tutto quello che c'è. L'ho già usato. Avete già visto un video nel quale utilizzavo un prodotto della Terri & Tamer quando ho cambiato tutti i cuscinetti delle ruote anteriori. E come avete visto anche lì ragazzi nella scatola c'era tutto quello che serviva. Dal inizio alla fine. L'unica cosa che non c'era erano gli attrezzi che vabbè nessuno ve li fornisce. Però è veramente il loro punto di forza. La cosa bella di questa azienda è che nel loro kit vi fornisce tutto. Ed è bellissimo. Non manca mai niente. Iniziamo a montare il nuovo giunto. La prima cosa da fare ragazzi è posizionare il nuovo sedger. Anche questo sedger ragazzi come vi ho già detto viene fornito ovviamente con il kit della Terri & Tamer. Si inserisce in questo modo. Ok. Si controlla che sia libero di muoversi e che vada bene nella sede in tutti i punti come è in questo caso. E adesso dovremo strizzarlo. Lo strizzerò utilizzando una fascetta dell'elettricista. Bene mi sono macchiato tutto via la testa. Come vedete ragazzi il sedger è libero di muoversi e adesso lo stringo con una fascetta dell'elettricista. la fascetta ragazzi fa sì che il sedger sia strinto nella sede del semiasse e quando ci andrò a mettere il nuovo giunto sopra resterà lì e non si allargerà. In questo modo il giunto passerà, la fascetta scenderà e poi una volta arrivato in posizione il sedger sarà nuovamente libero di aprirsi. Bene ragazzi allora prima di mettere il nuovo giunto metto un po' di grasso qua dentro. Non ne va messo troppo, va messo un po' senza esagerare perché se lo riempite tutto poi il grasso fa da tappo e non fa entrare il semiasse al suo posto. Ecco fatto. Come vedete ne ho messo poco. Adesso ragazzi abbucco il semiasse nel giunto. Ecco fatto. E poi lo batto ovviamente su una tavola di legno per non rovinare il semiasse. Ok come vedete il giunto è entrato nel semiasse e adesso devo togliere la fascetta. Adesso ragazzi viene la parte divertente, quella che tutti i bambini vorrebbero fare. Infatti devo ingrassare il giunto. Il tubetto di grasso. Ci si sparge bene dentro. Si ruota il giunto da una parte e si pigia il grasso. Ora non so se riuscite a vederlo. Però vedete che esce qua? Se esce da lì vuol dire che il grasso sta entrando a lubrificare le sfere. Sta andando là proprio dove deve andare. Guardate ragazzi come solo mangia tutto. Proprio ci pigia dentro. E lui ci va. Bene adesso ragazzi che ho ringrassato tutto il giunto per bene. Vado a pulire il semiasse nella parte superiore. Nella parte in cui andrà a mollo nell'olio del differenziale. Una cosa, una parte veramente importante da pulire è questa qua. Perché qua sopra è dove scorre, dove ruota diciamo il paraolio che separa l'olio del differenziale dal giunto. Quindi vi deve essere bello pulito in modo tale che non ci sia niente che faccia traspilare olio. Bene ragazzi come avete visto è un lavoro semplice ma delicato. Il metodo del tubo onestamente mi sento di consigliarvelo solamente se volete tenere il giunto intatto per utilizzarlo magari in futuro come pezzo di ricambio d'emergenza. Comunque sia in tal caso non esagerate con i colpi, datene al massimo 3 o 4. Al poi se non viene passate direttamente alla mola. Se poi va bene ragazzi il giunto è completamente distrutto e ha troppo gioco lasciate completamente perdere il tubo e passate direttamente alla mola. Detto questo vi auguro un buon lavoro e ci vediamo nel prossimo video. Un saluto, ciao! 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 Grazie a tutti.